Grande incontro in questi due giorni, si cambia paradigma, basta Sud pigro, basta questione meridionale, basta guardarsi l'omberico, ma pensare all'Europa e pensare al Mediterraneo. Il Sud può diventare il catalizzatore non della questione meridionale, della soluzione della questione meridionale italica, ma della questione mediterranea, il Mediterraneo come l'economia mondo, da cui passa il mondo, l'equilibrio del mondo, da cui passa la pace nel mondo, per cui questa responsabilità per il nostro Sud, visto che esiste una grande quantità di risorse del Next Generation EU, sia per quanto riguarda il nostro Sud, 82 miliardi, ma sia per quanto riguarda tutti i Sud del Med 9, di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, noi abbiamo una grande responsabilità di essere la punta di diamante del catalizzatore della crescita, dello sviluppo del capitale umano, del capitale sociale e dell'intero Mediterraneo, a fini ovviamente di crescita, sviluppo e pace nel mondo. Questo è il tema vero, dal Sud del Mediterraneo, dal Mediterraneo passa il grande equilibrio, la grande crescita, la grande forza dell'economia mondo, dell'area mediterranea, del Lab Mediterraneo e su questo il nostro Sud, il Sud italiano, deve e può avere un ruolo centrale di catalizzatore.